Sono in fuga da 48 ore, Emilian Bici, 43 anni, e Ermelinda Spacchio, 38 anni, coppia albanese di detenuti, evasa da martedì pomeriggio dal carcere di Villa Fastigi, dove erano reclusi in seguito ad una condanna per tentato omicidio avvenuto nel 2018 a Ravenna al termine di un'aggressione a coltellate in un contesto di criminalità organizzata albanese. I due, marito e moglie, furono arrestati a Fano un paio di giorni dopo il fatto avvenuto in terra romagnola. Da lì una detenzione di relativa buona condutta per una coppia che ogni mattina partiva in pullman dalla casa circondariale di Pesaro per recarsi a lavorare in un'azienda agricola sul San Bartolo assieme ad altri tre detenuti. Martedì pomeriggio però non si sono presentati al consueto ritrovo al pullman per rientrare in carcere. La caccia ai detenuti si è già estesa a tutta Italia e questa mattina si è tenuto un summit in prefettura per il coordinamento di ricerche. L'evasione è avvenuta attraverso una vasta area agricola e ha concretizzato una fuga per certi versi inspiegabile, soprattutto per Ermelinda che sarebbe uscita dal carcere il prossimo sabato a differenza del compagno che doveva scontare altri tre anni. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo possa aver convinto la donna a scappare con lui.